Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo zaino da trail Dynafit Ultra 12. Naturalmente è uno zaino da ultra trail running di cui adesso vediamo insieme pregi e difetti all'interno dell'accensione completa. Iniziamo come al solito parlando delle caratteristiche di questo Dynafit Ultra 12. Naturalmente è un litraggio di 12 litri ed è l'unico litraggio disponibile. Sono disponibili invece diverse taglie, XS, ML e taglia XL. È uno zainetto unisex quindi sia per uomo che per donna. Sono disponibili anche diversi colori molto molto carini. Ma arrivando alle parti fondamentali il peso siamo a 190 grammi e in più in confezione quando lo acquistiamo vengono date anche due soft flask da 500 millilitri d'una. Ora che abbiamo visto tutte le caratteristiche passiamo a vederne pregi e difetti. Inizio come al solito a descrivervi questo Dynafit Ultra 12 dalle tasche anteriori dove andiamo a riporre tutto il materiale. In generale pensate che è uno zaino davvero molto capiente perché abbiamo 12 tasche. Nella parte anteriore sullo spallaccio di sinistra, nella parte inferiore troviamo una tasca molto generosa in cui possiamo andare a riporre davvero tantissime barrette non chiusa da zip, elastica, in cui davvero vi assicuro ci stanno dentro tantissime barrette. E poi è facilmente raggiungibile quando poi dovremo andare a consumare il cibo. Nella parte superiore naturalmente troviamo la soft flask Hydra Pack data in confezione. Sono Hydra Pack ribrandizzate Dynafit. E sulla parte superiore dove va il beccuccio della nostra soft flask c'è anche un cordino per andare a tenerla ferma. Quindi perfetto perché così la soft flask anche da mezza vuota non balla. Sempre sullo spallaccio di sinistra nella parte superiore quindi che va praticamente in alto alla nostra scapola c'è una taschina chiusa da zip che possiamo utilizzare per metterci magari i fazzoletti anche se in gara di solito sulle ultra viene dato il GPS e quella è la taschina perfetta dove andare a riposizionarlo proprio pensata apposta. Sullo spallaccio di destra invece iniziando dall'alto troviamo un fischietto di emergenza che di solito fa parte del materiale obbligatorio scendendo anche qua la stessa soft flask con la stessa tipo di chiusura di quella che vi ho descritto prima e poi nella parte inferiore qui invece di trovare una singola tasca ne troviamo due. Una tasca simile a quella che abbiamo visto sullo spallaccio di sinistra dove andare a riporre il nostro cibo dei fazzoletti o comunque quello che dobbiamo portarci dietro. E poi nella parte frontale di questa tasca c'è una zip dove andare a richiudere il telefono. Sinceramente penso che questa zippa l'avrei fatta più grossa perché quando abbiamo dentro la soft flask e il cibo si fa abbastanza fatica andare a recuperare il telefono quindi almeno la cerniera almeno la cerniera l'avrei fatta un pochino più grossa sarebbe tornato sicuramente utile. Per quanto riguarda la chiusura sulla parte anteriore mi è piaciuta veramente tanto perché è una chiusura con ritorno. Cosa intendo dire? Noi possiamo chiuderla andando a tirare il cordino sull'altro spallaccio e poi col materiale che ci avanza possiamo arrivare a fare una seconda chiusura sullo spallaccio da cui siamo partiti. È veramente molto funzionale perché così non si slacerà mai e questo zainetto vi calzerà alla perfezione. L'unica cosa è che se siete molto grossi di corporatura naturalmente non riuscirete ad attaccare la seconda parte e in questo caso io ho provato ad utilizzare senza la seconda parte attaccata tende un pochino ad aprirsi. Diciamo che ogni tre quarti dura dovete darci una tirata per far sì che il cordino torni in tensione. Per regolare poi la parte bassa dello zainetto attorno alla nostra vita del corpo abbiamo due cordini da tirare in basso a destra e in basso a sinistra e così tirandogli appunto si va a restringere un pochino il vest attorno alla nostra vita. Questi cordini da tirare poi sono utilissimi anche per riporre i bastoncini nella parte anteriore. Infatti in dotazione vengono date tre fettucce, poi vi faccio vedere perché tre. In questo caso utilizzando due delle tre, andando a metterle nella parte anteriore e superiore degli spallacci possiamo andare a riporre i nostri bastoncini nella parte anteriore. I bastoncini non ballano, facilmente richiudibili, facilmente estraibili, utilizzabili, quindi feature che personalmente ho apprezzato. Infine troviamo due tasche non chiuse da zip, completamente aperte, poste sui nostri fianchi. Diciamo tra lo spallaccio e la tasca principale posteriore, proprio sul fianco. Ne troviamo due, una destra e una sinistra. Secondo me sono comunque comodi, ci si può mettere dentro un pacchetto di fazzoletti, ma oppure le carte di quello che mangiamo possono sempre tornare comode. Continuiamo a parlare di questo Dynafit Ultra 12 girandolo e guardando la parte posteriore. Qui troviamo principalmente tre tasche. Abbiamo la tasca principale che si può riempire dalla parte superiore e il mio consiglio è riempita dalla parte superiore e una volta riempita dalla parte superiore possiamo andare a prendere il contenuto da uno delle due zip messe in basso. È molto utile perché davvero quello che noi ripogniamo dall'alto poi riusciamo a estrarlo dalla parte bassa facendo sì che non dobbiamo togliere il vest per prendere il materiale. E poi troviamo un'altra taschina sempre chiusa da zip sulla parte opposta, questa completamente chiusa, quindi possiamo andare a riporci dentro, ad esempio, le chiavi di casa o roba del genere, apribile solo tramite la taschina di sinistra. Personalmente ho trovato queste due tasche abbastanza utili, anche se la cerniera che va ad aprire la tasca principale l'avrei fatta un pochino più grossa, un pochino più lunga perché diciamo che è un pochino corta e certi oggetti fanno fatica a passare. Troviamo inoltre un'ultima tasca posta su tutta la lunghezza dello schienale per andarci a mettere un indumento. Faccio un esempio, la giacca è impermeabile perché così davvero a quel punto tirandola dal basso riusciamo a estrarla senza dover obbligatoriamente togliere il vest. Sinceramente queste tre tasche mi sono piaciute, ci vuole un pochettino a capire come utilizzarle e come preparare questo vest perché sono un po' particolari. Però se riusciamo a utilizzarle bene e a mettere gli oggetti nei giusti punti, davvero si dimostra uno zainetto fatto molto molto bene, ingegnerizzato bene. Sempre nella parte posteriore poi troviamo in dotazione queste cinghie che qua vedete in colore rosa, dove poi possiamo andare a riporre nella parte esterna un qualche indumento o qualcosa. e utilizzando le tre fettucce che vi dicevo prima date in dotazione possiamo riporre i bastoncini nella parte posteriore, cioè facendo una forma di V. In questo modo potremmo trasportarle dietro facilmente, non ballano. Naturalmente per utilizzarli poi dovremmo togliere il vest per prenderli. Però comunque mi piace questa doppia funzione di poter portare i bastoncini sia sull'anteriore sia sul posteriore. Infine vi parlo dello schienale, comunque di tutto il mesh con cui è fatto lo zaino. Questo zaino è veramente molto molto traspirante. Ha una trammatura molto larga, fa passare davvero tanto sudore. Io l'ho utilizzato in delle giornate magari non con così tanto sole, ma vi assicuro molto molto affose. E comunque ha svolto davvero molto bene il suo lavoro. È uno dei migliori vest per quanto riguarda la traspirabilità che io abbia mai provato. Nella tasca principale poi possiamo andare a riporre anche una vescica da massimo 2 litri con il quale poter bere e far uscire la prolunga sul davanti. E sempre dove va la vescica, Dynafit dà in dotazione anche un piccolo astuccino in plastica su cui sono riuscate a riporre tutte le indicazioni per poter chiamare soccorsi in montagna. E questo astuccino, se vorrete utilizzarlo, può tornare utile per metterci qualcosa che voglian tenere all'asciutto da sudore. Esempio un telefono o comunque dei documenti cartacei. Ma in generale come lavora questo vest? Secondo me lavora molto bene. Davvero sta molto attaccato al corpo. Non balla per nulla. Anche da completamente pieno. Io ho voluto caricarlo con 4 kg. Vi assicuro che se si resta davvero fermo, i bastoncini restano fermi, lo si può davvero calzare come una seconda pelle. Quindi mi è piaciuto. Poi la trasformabilità, come vi dicevo, promossa. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Dynafit Ultra 12. Ve lo consiglio? Sì. Sì anche perché non viene venduto a un prezzo eccessivamente alto. Sito Dynafit siamo sui 130 euro. Online lo troviamo sui 100, 110. Secondo me ci sta. È davvero un ottimo prezzo. Cioè il prezzo è giusto per quello che andiamo a comprare. Anzi, diciamo che se fosse costato anche un pezzino di più sarebbe comunque stato giustificato. È un prodotto che a me è piaciuto molto. Un prodotto che consiglio praticamente a chiunque. Sia dal principiante che all'esperto che fa gare anche di ultra, ultra, ultra. Quindi sì, davvero io mi sono trovato bene. Ve lo consiglio fortemente. Detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!